Il 3 maggio Via Negri diventerà teatro della giornata paralimpica prova con noi. Gli studenti del liceo scientifico sportivo Respighi, il Comitato Italiano Paralimpico e il CONI con il patrocino del Comune di Piacenza mostreranno agli studenti dei vicini istituti nuove discipline sportive paralimpiche, tra cui handbike, tennis tavoli in carrozzina, scherma e tiro con l'arco. Vogliamo che soprattutto gli insegnanti ma i ragazzi stessi vedano materialmente cosa vuol dire, non so, ci sarà il tennis tavolo in carrozzina, ci sarà il handbike, cosa vuol dire per un disabile poter fare questa attività. Quanti sono i bambini e i ragazzi disabili che fanno sport? È un numero che è cresciuto nel tempo? Sì, allora, che fanno sport in costante crescita direi attualmente potrebbe essere attorno ai 500, insomma. Però sono tanti quelli che hanno bisogno di questa attività, solo nelle scuole sono più di mille. Quali benefici porta fare sport a una persona con disabilità? Intanto sul livello fisico, perché non è che il ragazzo disabile abbia molte possibilità di fare sport e poi anche un'integrazione sia morale che materiale, perché tutta l'attività che facciamo noi difficilmente è singola ma è integrata. Quindi faccio un esempio, non so, il calcetto integrato vuol dire tre giocatori disabili e due normodotati perché giochino insieme e capiscano i disabili come si gioca e i normodotati le difficoltà che hanno i disabili a giocare.